buongiorno amici buongiorno a tutti eccoci qua oggi questa macchina vi saluto lavorando all'uncinetto ok ho cominciato un nuovo lavoro vedete questa è una copertina che sto facendo per il bimbo che arriva alla gianna per il mio bebé il nuovo nipotino che arriverà fra poco carissimi amici ok e così vi voglio dare il mio buongiorno è mattina presto e io lavoro all'uncinetto perché l'unico momento che posso lavorare poi dopo non ho più tempo che sono da fare tante altre cose e non posso lavorare all'uncinetto allora lavoro adesso no ok è bella colorata perché mia figlia la vuole colorata ha fatto il fatto che mi piacciono i colori e la gianna pretramma si fa la colorata che bella abbiamo scelto insieme i colori siamo andati al mercato a comprare la lana e così adesso l'ho incominciata vediamo che voi la devo pure finire è vero ok intanto volevo così dare il mio buongiorno buongiorno a tutti amici sempre grazie per come mi seguite continuate così per il fatto dei grazzini volevo dire che si li porterò però non fu con l'assiduità scusate la parola difficile di una volta perché a me piace fare anche altre cose come sapete i grazzini li porterò quando fu quando meno però quando posso li porto insomma ok allora detto questo cari amici auguro un buongiorno a tutti una buona giornata e buon appuntamento al prossimo video a più tardi ciao 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 Grazie a tutti.